Non esclude di doversi dimettere da presidente del patto territoriale norbarese O'Fantino. Il generale Paolo Marrano, sindaco di Margherita di Savoia, potrebbe dare il colpo definitivo, almeno moralmente, all'agenzia che coinvolgeva i dieci comuni della provincia Bat, più corato, e che continua a perdere pezzi. Dopo le uscite di San Ferdinando, Canosa e Trenitapoli, nel giro di poche settimane, anche Trani e infine Bicegli hanno deciso, attraverso i loro consigli comunali, di abbandonare quell'agenzia, considerata ormai peso e non risorsa. Nel corso della trasmissione Spazio Città, in onda questa sera alle 23.10, in cui, oltre al presidente Marrano, erano presenti anche i sindaci, Giorgino, Spina, Mazzilli e Patruno, si è discusso del ruolo del patto norbarese O'Fantino. E Marrano ha chiarito di non essere disposto a continuare a guidarlo senza l'impegno dei comuni che ne fanno parte. Se a un certo punto, così come diceva il sindaco Mazzilli, non c'è la voglia, la volontà di ricompattarsi e di pensare a una organizzazione che vada avanti sulla base di quelle che sono le esigenze, delle necessità di tutto, di tutti i comuni, e allora cosa ci sto a fare? A quel punto tanto vale chiuderlo, quantomeno chiudere la mia esperienza. Però, voglio dire, estrema razio, è l'estrema razio, perché io ho la voglia, il desiderio di ricompattare un po' tutta la compagine, soprattutto fare degli approfondimenti di ordine giuridico-amministrativo in ordine alla possibilità di proseguire con questo tipo di organizzazione col patto, ma soprattutto il desiderio di dare veramente un contributo fattivo, un contributo di tutti i giorni sul campo ai comuni che hanno la necessità di sopravvivenza, perché, come ho già detto, ripetuto e sottolineato, ci sono nel patto figure professionali che possono veramente dare una mano. Riunione domani per arrivare a quali decisioni? Domani noi faremo il CDA per capire un po' quali sono le prospettive future. Subito dopo passeremo nell'Assemblea dei Sindaci, nell'Assemblea dei Sindaci bisogna anche lì decidere, saranno invitati tutti i sindaci a decidere se proseguire o meno.